Oggi prepariamo un delizioso plum cake alle mele, non serve neanche la bilancia. Vi ricordo che tutte le dosi le trovate alla fine del video e sul sito. Allora, all'interno di una ciotola dobbiamo rompere due uova, in seguito aggiungiamo lo zucchero, in questo caso zucchero di cana ma va benissimo qualsiasi altro tipo di zucchero, l'olio di semi, lo yogurt e mescoliamo bene. Ora non ci resta che aggiungere le uvete con il rum, mescolare, un pizzichino di canella e per ultimo il lievito. In seguito prendiamo le nostre mele e una la andremo a sbucciare e a mettere all'interno dell'impasto tagliata a pezzettini molto piccoli. Prendiamo l'altra mela, la tagliamo a fettine sottile e la mettiamo sopra il nostro plum cake. Io trovo questo plum cake delizioso e mi piace gustarlo con il tè alla canella. Se volete vedere la ricetta del tè la trovate sempre sul sito.